Adesso lo sto facendo Sì Tu va a prima volta Stai passando a me Quanto sei stupida Casa? Sì, è a Pinnacoli Io l'ho visto muoversi Eravamo io e Iari E l'ho visto muoversi Ma non c'è nessuno Ok, oh L'amico? Ce la fai? Figa Otto di vita Vabbè, io a casa Devo ancora finire Di ritorno Se vai sul tetto Della casa C'è uno scuso Pigliatelo Lì dove c'è Quella scala Lì Vai dai, vai dai Prenditelo Io ho due tamburo Se vuoi Oh, medikit Lì, levate a prendere lo shieldone su Ce l'ho io adesso L'ho trovato adesso Ti porto la potenza? Di ritorno scuro Sì Allora ti do Questo E questo No, ce l'ho Adesso mi vado a prendere Vampo a sopra Vieni Ne posso dar 5 Tieni Oh Sì C'è due slot Vati Allora ti do Sì Sì Ce l'ho lasciato Il cartello Sì Non c'è niente È inutile che corriamo in safe Tanto la safe è qui vicino Aspetta che ho visto qualcosa di viola dentro No Mi sembra che la desert eagle Sì Desert eagle Sì Sì Baby Baby No Non si Sto andando Vediamo se qua ce l'ho la cassa Ma non ce l'ha Ti Sì Fa Allora Ti oh ma etiquette sono meglio le bende ehi ma c'ho due bende più quelle là vado a 7 no sono meglio le bende ok c'è per pusciare quello ok metraglietta insomma la metraglietta spara più velocemente ma nata muro fa più danno c'è chi non ha 10 colpi semiautomatico ok ok se vedete la mira che va a sinistra è perchè c'è il joystick dunque dimmi cos'è cosa credevi che fossero ma andrei guarda qua ci sono gli scudini eh vieni da me mi ne fa tempo ho preso le altre bende qua non c'è la casa ovviamente perchè non l'ho cercata io vieni qua che te lo do mi taglia lele c'è la minican vieni qua da me vieni qua da me ci sono stati qua ci sono stati lì su eh mitraglietta blu eh 19 tu quanti ce ne hai no niente come mai ti sei tolto anche il piccone l'ho ah dai ha bendo kille l'ho lì l'ho lì l'ho lì mi sbaglio o manca una casa lì oppure manca tutta la cernice ah lo so non vedi nelle case c'è qualcosa di bello c'ha 10-4 eh tu quanta legnai 670 io tra qua non l'hanno lootata eh sono in 6 t eh aspetta come la la l'ho la 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 Oh, sinistra. Lo so, gli ho visti, gli ho visti. Ho il caccia. Sono uno contro uno, l'ha ucciso. Butta tutto giù. La terra. Oh, è morto. Fra, qua c'è il cecchino viola. Nuovo, Lele. Il nuovo viola. Ah, ce ne sono due nuovi viola. Qua c'è il grasso calibro. Io no. Se vuoi dei polpi piccoli chiedimelo, eh. Anche dei colpi del cecco. Quanti colpi hai del cecco? Ok, pompa. 200? Ah. Vedi questo? Non lo vuoi il P90 euro? No. Dio, D.A.R. Dio, vuoi colpi? Mi sa che stiamo mirando lo stesso. Con la nord-est sulla montagna. No, non ci sono. Ok, ci sono. No, Fra. Non sono sulla montagna, Lele. Ho fatto un fail della madonna. Oh, ma figa. Non riesco a scalire sto personaggio. No, Fra è scappato con la finitura. Sì. Sì. Ci sono dei tipi davanti a noi, Lele. Sì, ma non so dove stanno. Vedi, ma non c'è nessuno lì, eh. Oh, le salterine. No, no, Lele. Lele, lele. Pieda di sto coso. Mi sa che sto arrivando? Fa niente. Sono lì. Vabbè, sì, in teoria sì, dobbiamo andare insieme. Non mi dare sulle scale. Sì, lo so. No, no, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è una cassa. Oh, sinistra. Nord-est. Sì, sì. Vai, vai, vai. Puso, 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 puso. Ma vai, più avanti. Ok. Ok. Mi ha preso E' morto anche lui Mi sono suicidato Apri Mi aprivi Oppure non è tua questa Ah si Oh bend No mi ha tolto il bend No 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 Un attimo che sto guardando dove sta il tizio Aspetta Non c'è il suo? Ah, è quello grande ciao